Anna Mena, ciao intanto tu a questo festival di Sanremo affronti una tripla sfida intanto è il tuo primo festival di Sanremo, non sei propriamente italiana, sei spagnola lo ricordiamo ma canti in italiano, canti in Italia al festival di Sanremo e sei la donna più giovane in gara, allora la domanda è come affronterai queste sfide? Guarda con tanta emozione, se ti devo spiegare con parole non saprei come farlo perché ne ho dentro un mix di emozioni così grandi che non saprei come spiegare come mi sento a volte super carica, a volte super stressata per tante cose che si aggiungono tutti i giorni lavorando molto 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 molto, non vedevo l'ora di essere su quel palco cantando la canzone tutti i giorni, praticando, visualizzando il momento, emozionata la gran paura che ho è forse di emozionarmi prima di cantare perché mi è successo anche nelle prove quindi potete immaginare che per me questa è una cosa molto importante mi sento felice, direi felice ci sono state alcune polemiche, lo dicevo prima perché non sei propriamente italiana sei spagnola e la solita vecchia storia qualcuno ha tentato di tirar fuori un po' di polemica dicendo che hai preso il posto di un qualunque altro artista nato in Italia come hai affrontato queste critiche, che cosa ne pensi? e poi peraltro so anche che stai preparando delle cover con Rocco Ant con il quale spesso duetti, insomma cosa state preparando? e allora se dico la verità non ho letto tanto su queste polemiche so che sono state, in parte lo capisco ma porto il festival della canzone italiana davvero che lo faccio con tutto il cuore del mondo e cerco di fare omaggio a questa musica che adoro e che amo da sempre questa musica che per me a casa ha significato tanto che mi ha in qualche modo fatto essere o diventare la persona o l'artista che sono adesso quindi mi ha dato tanto lo faccio sempre dal rispetto più profondo dall'umiltà più profonda e dall'ammirazione più profonda davvero che noi in Spagna seguiamo pure questo festival non solo se segui qui in Italia è un festival molto seguito all'estero perché noi stranieri amiamo la musica italiana e questo si è visto da tanti anni fa è stato un legame 15-20 anni fa con la musica italiana e la musica spagnola di artisti italiani che poi portavano i suoi brani in spagnolo e hanno spaccato veramente quindi per questa tradizione e per questo amore che ho alla musica italiana e per tanto che mi ha dato il pubblico da 4 anni adesso io ci tenevo a partecipare in questo festival perché mi fa piacere perché forse può davvero suonare a cliché ma è la verità per me è un sogno che si realizza essere qui io già mi sento grata quindi niente risaltare come si dice risaltare destacare che per me il fatto di essere qua è semplicemente fatto dall'umiltà dal rispetto più profondo e ovviamente lavoro porto un brano in italiano come ben dice il regolamento fatto da un team italiano con cui lavoro da 4 anni fa e niente spero che vi piaccia e alla tua prima domanda con Rocco sono molto contenta di poter condividere con lui questo momento così speciale così importante per me perché lui è una persona molto importante nella mia carriera con chi ho condiviso bellissimi momenti ci tenevo a condividere con lui questo momento perché mi sentirò praticamente molto comoda in famiglia sul palco abbiamo preparato un medley molto bello possiamo anche dire le canzoni un medley fatto dal cuore e la intenzione con questo medley era un po' come si direbbe in italiano unire esatto unire tutte le generazioni con questi tre pezzi inizio con il mondo poi arriva Rocco con una parte inedita bellissima che secondo me è molto molto carica di energia su figli delle stelle che è un brano che a me mi fa impazzire ho fatto vacanze con questo brano il loop tutto il tempo e poi finiamo con Semila Scino Unvale di Julio Iglesias che è anche un artista spagnolo che ha fatto dei suoi canzoni in italiano e che per questo un po' di legame esiste quindi penso che sono canzoni che conoscono dai più grandi ai più giovani e che alla fine piacerà molto penso che funziona molto bene con l'orchestra suona veramente bello mi emoziona molto e condividere questo momento con Rocco per me è molto importante quindi niente spero vi piaccia Quali sono le canzoni storiche di Sanremo che appartengono alla tua giovanissima storia che ne so qualche hit qualche successo che ascoltavi con i tuoi genitori e poi ho da chiederti un'altra cosa tu sei molto generale ma sei anche un artista a 360 gradi canti presenti reciti pensi di continuare con tutti questi impegni o di focalizzarti in uno solo di questi canzoni di Sanremo che mi hanno colpito sono tante ma io ricordo questa edizione non l'ho potuto guardare perché non ero nata ma una canzone che suonava tanto a casa e che significa molto per me perché mi emoziona proprio appena inizia è Canzone per te di Sergio Indrigo una canzone molto classica molto molto classica ma canzoni di Sanremo tante che poi hanno spaccato anche in Spagna ad esempio La solitudine Laura Pausini o La notte di Arisa che ne so sarà perché ti amo di Ricchi e Poveri anche se a casa mia si ascoltava di più Come vorrei quella mi adoro come vorrei come vorrei bella allora mi sono persa mi sono persa scusami ah niente canzoni canzoni di Sanremo momenti di Sanremo di Sanremo questi questo ultimo Sanremo all'essere in quarantena a casa mia l'ho seguito proprio bene beh che bella la canzone di Sergio Indrigo capolavoro assoluto è una pietra miliare della musica leggera italiana ma ecco torniamo alla tua carriera continuerai anche a recitare sì io sempre che ho l'opportunità di poter fare tutte e due cose sono disponibile e sono carica e felice di farle anzi quest'anno esce su Netflix una serie che ho filmato quest'anno scorso in aprile si chiama in spagnolo si chiama Bienvenidos a Eden in italiano penso si chiamerà Benvenuti al Paradiso Benvenuti all'Eden non so quando quando esce però è stata una bella esperienza tornare a recitare perché mi mancava proprio è una cosa che ho iniziato a fare quando avevo 11 anni e davo vita a un artista spagnola non so se voi qua la conoscete Marisol è un artista che è iniziata da bambina lei è dalla mia città che è io da Malaga e ho iniziato a recitare in quella età lì con 11 anni poi ho avuto l'opportunità di partecipare anche in un film di Almodovar per fortuna tutti i progetti di attrice o di interpretazioni che ho fatto sono stati legati alla musica quindi in questo senso mi sono sentita sempre super comoda e ho potuto scoprire che anche un'altra sfaccia come si dice sfaccettatura che mi piace molto quindi niente sono davvero molto molto contenta di raccontarvi che questa serie esce quest'anno spero vi piaccia penso che ha un che racconta una storia molto interessante e non vedo l'ora di sentirmi in italiano davvero mi piacerebbe molto fare anche io il doppiaggio ultima curiosità cosa porterai al festival di Sanremo oltre alla musica cosa porterò sul palco di Sanremo cerco di portare la mia personalità la mia anima la mia emozione un brano che penso che entra in testa subito una carica energica speciale direi non lo so penso che sia un brano speciale per tutte le cose che ho raccontato prima che hanno quindi si spiegherà meglio nel momento in cui le persone conoscano finalmente questo brano però darò il massimo di me cercherò di darlo quindi emozione di sicuro ci sarà tanta ciao Ana in bocca al lupo al festival di Sanremo in bocca al lupo ciao ciao